Siamo qui con Francesca Bosio, capitano della Nazionale Italiana Femminile di City Volley. Abbiamo appena vinto la partita con l'Olanda 3-0. Francesca, com'è andata la partita secondo te? Direi bene, non ci siamo fatte prendere come succede a volte con le squadre più deboli, a volte succede di non giocare bene, invece siamo riusciti comunque a mantenere il nostro gioco e abbiamo vinto 3-0 tranquilli. Questa sera abbiamo la Russia, che sarà una partita divertente sicuramente, un po' più impegnativa e vediamo di andare a giocare bene stasera, quindi oggi ci rimposeremo un po' e così andiamo a fare i tifo di massimo.